Giuseppe Lungobardi, napoletano 25enne di origini campane, si era trasferito al nord da qualche tempo e da pochi mesi abitava a Ponso, a sud di Padova. Qualche precedente e pochi lavoretti da manovale per trovare soldi ha pensato bene di minacciare una donna vedova di ospedaletto euganeo. Le ha fatto trovare nella cassetta delle lettere un biglietto in cui fingendosi straniero e salutando con un'improbabile scritta alla pretendeva 5.000 euro dalla donna in cambio dell'incolumità del figlio 13enne di cui diceva di conoscere tutte le abitudini. La donna inizialmente non ha dato molto peso alla minaccia ma una seconda lettera più esplicita l'ha terrorizzata. Disperata si è presentata presso la nostra caserma mostrandoci un biglietto che aveva rinvenuto nella cassetta postale. In questo biglietto le veniva richiesta la somma di 5.000 euro che se non fosse stata consegnata avrebbe causato effetti disastrosi tra cui la grave minaccia rivolta al figlio minore, quella di deturpargli il volto con l'acido. Nel biglietto era specificato che la donna non si sarebbe dovuta rivolgere ai carabinieri che non avrebbero addirittura potuto restituire il volto al figlio. Voi ritenete che avrebbe potuto veramente mettere a segno questa minaccia? Certo, la minaccia era una minaccia molto grave che ha sicuramente generato preoccupazione e allarme nella vittima, nella donna. Una donna scelta a caso, un po' guardandosi intorno, sono le persone con disponibilità economica. Sì, non c'era nessuna conoscenza fra vittima e il malvivente, la donna è stata selezionata a caso probabilmente perché si riteneva avesse un tenore di vita alto. I carabinieri della compagnia di Esti hanno arrestato Giuseppe Longobardi in flagranza, hanno organizzato la consegna del denaro e quando l'uomo è arrivato a prendere la busta sono intervenuti e l'hanno bloccato per il reato di estorsione. Ora è in carcere a Rovigo. Lui ha detto qualcosa, ha cercato di giustificarsi in qualche maniera? Lui spontaneamente ha riferito che aveva bisogno di soldi, che aveva messo in atto questo piano criminale per recuperare la somma di denaro.